Amore scusa, mi sono troppo stanca, me ne sto andando a letto e mi vado a riposare. Mi raccomando, fai la brava. Va bene mamma, vado a dormire. A tra poco, ciao. Uffi però, mi annoio sempre quando mia mamma non c'è quasi quasi, io mi accendo intanto la tv. Tanto non le porta a fastidio, guarda che belli animaletti. Che bello. Mi piace tantissimo un po' quando dorme perché di solito non sempre mi fa guardare la tv e quello non va bene, quell'altro nemmeno, però io mi inizio ad annoiare. Tutto sommato e queste cose va bene che è bello, però io mi inizio ad annoiare. Vabbè, vado a vedere che cosa sta facendo. Ora ci vado, vado a vedere. Sì, mi sto proprio annoiando, non ce la faccio più. Mamma, sei sveglia? Mamma, devo usare sempre i metodi. Faccio così. Niente. Col pallone adesso. Col pallone. Niente, non si sveglia. Con l'aspirazione. Mamma, mamma, svegliati. Mamma. E qui vado col milkshake. Niente. Vabbè, allora io vado a giocare a Roblox. Cos'hai detto? A Roblox? Vai immediatamente a fare i compiti delle vacanze, non ti azzardare. A saperlo che bastava dire Roblox, risparmiamo tempo e fatemi.